Ad essa si ispira. Eppure c'era pioggia nell'aria e fra le mani c'era pioggia e nei capelli c'era odore e sapore di pioggia. Ma nei campi non pioveva. Avevamo gli occhi fissi al cielo e all'orizzonte in un'attesa febbrile. Poi mia madre chiamò le altre donne e disse di pregare, di pregare, di pregare, al posto di mangiare, al posto di dormire, al posto di tutto. E piove. Commento. La preghiera collettiva ha una grande forza. Ad essa si ispira l'antico mago della pioggia.